La spesa di questo weekend insieme 6 schier presi al Lidl e sono pochi insalata iceberg che è troppa, riso del minestrone che avevamo preso l'altra volta ed era buonissimo Questi sono fiocchi di latte, questi qua della Vitasnella non sono senza glutine e infatti sono soltanto per Jimmy Gran cereale per Jimmy, questo obrobrio, sempre per Jimmy, però voleva provare Poi come verdura abbiamo pomodori, broccoli e altri pomodori, questi sono i miei pomodori preferiti Pomodori tipo merinda, insomma, sono i miei preferiti, non so nemmeno il nome E le carote Come frutta abbiamo mezzo chilo di fragole e una mela Poi come carne abbiamo preso un trancio di tacchino Questa carne che prendo sempre quando vengo qua da Jimmy alla Conad Perché è totalmente una fetta di carne, senza niente, senza osso, quindi è tutta fruibile E poi Jimmy ha preso queste costicine che lui adora, a me personalmente non piace il maiale Poi uova, rigorosamente biologiche perché ho sentito delle cose assurde sulle uova quindi ora le prendo solo biologiche Latte senza lattosio per me, per Luna, passata di pomodoro, solo pomodoro e sale Ne avevo trovata una solo pomodoro però costava il doppio e non me ne frega niente Io non spendo il doppio per soltanto togliere il sale Gallette di riso, immancabili Un pacco di lenticchie e cacao amaro, basta Ok, questo è grosso, eh, Luna Oh, chi è? In silenzio No, Luna, no, non ti arrabbia qua su Che schifo Dai, Luna, su Sai che l'altra volta mi ha mangiato una mosca? Sì, sì A casa Luna, la prendo, eh No Dov'è? Eh, qui, è sempre vinto, no? La luce Fai il giro da uno Eh, lei la vede dallo specchio, però Ti incazzata, Luna, dai Gio, eh, ora mi andava là su in cibo Sì, le che basso Eccola Dai, Luna, fai qualcosa Si immagina su se stessa Quanto è scemo sto gara Eh, ho capito, ma anche lei è veloce? Non lo prendo, io Presa E' in tega Prendila Eh, ora è un po' rintontito Che schifo Davvero, nell'occhio? Vai a lavarti subito, dai No, non è il damare Che mi ha lasciato qualcosa Luna, guarda che mi sa che è lì, tipo No, 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 no Ti prego Vai dietro Abbi pietati Abbi pietato la finestra Eccola Prendila No, 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 no No, la tenda, no Abbi pietato la tenda E' dietro? Sì E levati dalla tenda Spassa Che sei prendita? Ah, aiuto No No Ma mia mamma se la mangio E' ormai la presa Che schifo Che schifo Che schifo Vai Luna Dai Luna, ma sei un'impedita Ah, vabbè Sei un po' down Allora ti stai diventendo Che schifo Luna, ti prego Non mangiarla però No, gliela sapevo di male Ormai sarà anche morta Guarda Non me si diverte Oddio Che schifo Guarda che è una farfalla Io te lo volevo dire Io odio le farfalle No, ciao Basta Che schifo Quello Bravo Iegimi stiamo instaurando Una tradizione Montagna Uguale Notate o serate Passate a fare Pazzol Questo E' di Amsterdam Perché Per me è una città Molto importante E quindi questo infatti Sarà mio Mentre quello prima Era di Roma E quello è suo Aiuto C'è la lista di tutti Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Buongiorno, questa è la situa dopo ieri sera, in realtà non abbiamo fatto tardi come al solito. Buongiorno, questa è la situa dopo. Le zampine come luna. Guardala. Fai un budino luna. Ce l'ha con te? Ehi, vedi? Io ti faccio così. Trova un'altra umano che te lo fa. Amami umana. Lo sai luna che siamo qui da 20 minuti? Già lo sai, vero? 20 minuti che ti prendi coccole. Eccolo, tamburino! La passiamo così oggi? Che hai fatto oggi? Nulla. Abbiamo avuto un... È una biscia. Povera luna. Povera cosa, guardala. Aiuta! Io ti strobozzo di coccole! Vai, vibra come il vento. Abbiamo deciso di scendere... Abbiamo deciso di scendere a Firenze per andare a mangiare... Sushi! Ma non in curva! Eh, cioè... Che ci posso fare io? Dai, rifalla. Davvero? Sì! Addirittura sono venuta in curva. Non è finta questa scena. Abbiamo deciso di interrompere il nostro ritiro in montagna, momentaneamente, per andare a mangiare... Sushi! Questa scena non è stata assolutamente programmata. Come naturalissima. No, è tantissimo che non vado a mangiare sushi e Jimmy mi ha detto sushi. Mi ha detto, mi vai, comunque Jimmy ti preguida meglio, mi sta venendo mal di stomaco. Oh, ma bozza! Non lo fai apposta per i video. No, no, ti giuro. Non è vero. Te lo giuro, mi sta venendo mal di stomaco. Vomito lì? Oh, ma bozza! Bye, bye! Maremma Bonina oggi sarà nel Miregno. e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La salute nel piatto Grazie a tutti Dovevo andare Strada e piano Tu sei un gatto di casa Luna Volevo concludere questo video Rispondendo a un paio di domande che mi ponete spesso Circa come viaggia Luna e come l'ho abituata E il mio rapporto di stanza con Jimmy Allora inizio parlando di Luna perché è abbastanza veloce Abbastanza semplice Luna ha viaggiato dal primo momento in cui l'ho vista Io l'ho presa in provincia di Pistoia Dove Jimmy ha la casa in montagna E quindi dalla montagna l'ho portata a Padova in treno Quindi ha già compiuto il suo primo viaggio quando aveva un mese e mezzo e quindi dopo lo svezzamento Poi l'ho sempre più o meno abituata a viaggiare Semplicemente la mettevo nel trasportino e andavamo All'inizio si lamenta, all'inizio miagola, all'inizio piange Però poi si abitua Anzi in treno Si lamenta quando il treno si ferma Perché il trotterellare del treno la coccola, la culla E quindi lei sta tranquilla Diciamo che Luna è molto affezionata a me Quindi deve guardarmi, deve vedermi Infatti la devo sempre mettere in una posizione in cui è girata verso di me Perché quando mi vede è tranquilla E infatti nel momento in cui vado in bagno e non mi vede comincia a piangere Però cerco di starle il più vicino possibile Cerco di parlarle Ho notato che se mi impongo e non cerco di assecondare i suoi miagolii Smette, dopo un po' si stufa E soprattutto se dico no, no, no Lei si calma L'ho abituata così Sinceramente non so che consigli darvi su questo Se non abituateli sin dall'inizio O comunque se l'avete presi che arancia grande Portateli e basta So però di gatti che mi hanno raccontato Perché la gente quando vede Luna così tranquilla nel trasportino Incomincia a raccontarmi tutte le peripezie che gli sono avvenute con i gatti Tipo gatti che hanno incominciato a soffiare A perdere bava dalla bocca, schiuma Di qua di là Io per fortuna a questo numero non è mai successo Un paio di volte ha vomitato per il trasbordo Per essere stata un po' sballottata Può succedere, accade Alla fine non succede niente Ho cambiato trasportino Ho preso quello trasportino che vedete spesso nei miei Instagram stories O comunque l'avete visto anche nei video Che è uno zainetto È molto più pratico, più comodo per me Un po' meno per lei Perché rispetto a quello rigido sta un po' più scomoda Comunque viene un po' più sballottata Però è molto comodo per me Perché me la metto sulle spalle e andiamo Invece di dovermi portare lei Con le eventuali altre valigie Quindi questo è il viaggio di Luna Tu sei un gatto viaggiatore Un gatto viaggiatore Vai Ok E poi la mia storia a distanza con Jimmy Io e Jimmy ci siamo Allora Jimmy è di Prato Che è una città vicino a Firenze Io quando ci siamo conosciuti Abitavo a Firenze E abbiamo passato l'estate del 2013 A vederci una volta a Prato Una volta a Firenze O comunque uscire tra Prato e Firenze Dopo a settembre È iniziato il nostro rapporto a distanza Abbiamo deciso di fare questa cosa Di provarci Sebbene fossimo un po' titubanti In realtà è andata avanti È andata avanti bene Infatti siamo ancora qui a parlarne I miei consigli che mi sento di dare Per chi vive un rapporto a distanza Per chi sta per cominciare un rapporto a distanza È una cosa su cui io ho dovuto tanto lavorare È il cercare di sentirsi spesso Allora io sono una a cui non piace assolutamente parlare al telefono Io odio parlare al telefono Secondo me è una parita di tempo E non mi piace parlare con l'altra persona attraverso il telefono Preferisco parlare a voce Parlare faccia a faccia Quindi io ho avuto un periodo in cui Se mi succedeva qualcosa durante la settimana Io me lo scrivevo E aspettavo di vedere Jimmy nel weekend Per raccontardelo Solo che poi questo Durante la settimana Mi portava ad allontanarmi O comunque a non dirgli determinate cose O comunque a non renderlo partecipe della mia giornata Ed è questa una cosa fondamentale Che ho scoperto Su cui ho davvero lavorato Il fatto di rendere l'altra persona Anche se distante Parte della tua giornata Parte della tua routine Fare quella telefonata Raccontargli quello che ti sta succedendo Giorno per giorno Non aspettare il weekend Il momento in cui vi vedete Perché poi nel momento in cui vi vedete Volete stare insieme Non avete voglia di raccontargli quello che è successo lunedì Che magari lì per lì poteva sembrare importante Adesso può sembrare una cazzata Per me è stato molto difficile abituarmi a questo Però ce l'ho fatta Infatti da quando ho deciso anch'io Di raccontare la mia giornata giorno per giorno A Jimmy E renderlo parte della mia routine Con una telefonata Con una chiacchierata Magari mentre cucino la sera Non c'è bisogno di fermarsi E parlare un'ora al telefono Puoi anche mettere il telefono lì E chiacchierare Come se la persona fosse accanto a te Magari trovare dei momenti in cui ci si incastrano Ovvio se l'altra persona è occupata è un po' difficile Però trovare quei momenti durante la giornata Da dedicarsi attraverso il telefono È bruttissimo Lo so Non mi piace neanche a me Vedete che io non sono una persona a cui piace parlare molto a telefono Però è un compromesso E un giusto compromesso Che bisogna fare Perché se no Il rapporto non va avanti Ma non va avanti perché Ci deve essere condivisione Ci deve essere una condivisione giornaliera Non si può aspettare quando ci si vede Io e Jimmy ci vediamo circa una volta ogni due settimane Università permettendo In realtà in periodo esami Rischiamo anche di vederci una volta al mese E questo può diventare molto difficile da sostenere Però penso che tutto sia reso molto più facile Dal cercare di rendersi partecipi della giornata altrui Un altro consiglio che mi sento di dare È che quando vi vedete Dedicarvi del tempo Questo può avere degli effetti positivi E degli effetti negativi Perché quando io e Jimmy ci vediamo E solitamente nei weekend Cerchiamo di stare soltanto io e lui Dopo due settimane che non ci si vede Si vuole stare insieme Ed è più che legittimo Quindi spesso ci richiudiamo in montagna Tre giorni Con internet limitato Con pochissimi social network Senza niente Soltanto io e lui Con grigliate Puzzle Film Passeggiate in mezzo alla natura Quindi proprio Stiamo io e lui Un weekend Oppure quando lui viene qui a Piacenza Stiamo comunque io e lui In giro Shopping di qua di là Però tipo la sera Usciamo comunque io e lui Non cerchiamo di Andare fuori Vedere gli altri Eccetera Questo Ha l'effetto Che passiamo del tempo insieme Perché passiamo tre giorni intensi Insieme Però ha anche l'effetto Un po' Negativo Nel senso che Si incomincia a vivere In una specie di Altro mondo Parallelo Nel quale O sei da sola O sei solo con lui Diciamo che molto di una coppia Fa anche l'aspetto sociale Fa anche il fatto Di uscire con gli amici Di uscire la sera in compagnia Di andare a ballare Di andare a prendere un aperitivo Di andare a prendere Di vivere la coppia Anche nell'ambito sociale Con gli altri Questo Io e lui Non lo viviamo Spesso Perché Non vedendoci così tanto Penso che sia legittimo Non aver voglia Di uscire con gli altri Quando si è insieme Quei Poco tempo Che si è insieme Quindi questo è un po' L'aspetto Negativo L'aspetto un po' più difficile Perché comunque Anche l'uscita insieme In gruppo Rafforza la coppia Il fatto di vedere Se stessi E il proprio partner Parte di un gruppo Accettati dagli altri In compagnia In sernità con gli altri Secondo me Rafforza molto il rapporto Noi questo lo facciamo Quando Sappiamo che Stiamo insieme tanto Noi ogni tanto Facciamo una settimana insieme Quando ne abbiamo la possibilità Fine di una sessione Inizio dell'altra Sfruttiamo le vacanze Per Natale Avete visto che a Capodanno Ci siamo presi una settimana insieme E lo faremo anche A agosto Abbiamo prenotato Una vacanza insieme Faremo dieci giorni Andremo a Lisbona Poi scenderemo A Lagos Faremo quattro Cinque giorni al mare Poi saliremo su Siviglia Tre quattro giorni E poi ritorneremo a casa Quindi saranno dieci giorni Soltanto io e lui Al mare A goderci Portogale La Spagna Sarà bellissimo In quel caso Avendo tanto tempo a disposizione Non cercheremo Affatto di stare Sempre solo io e lui Insieme E non parleremo con nessuno E ce lo riteneremo da tutti Ma Vivremo la città Poi vabbè È un ambiente anche diverso Non ci sono i nostri amici E quindi Uscire con gli altri È un po' difficile Ma comunque Usciremo E se incontriamo qualcuno E ci parliamo Cioè È più un concetto diverso O comunque si vive la coppia In modo diverso Ma soltanto dato dal fatto che Abbiamo più tempo per stare insieme Non dobbiamo concentrare tutto In due giorni In tre giorni Questo è come io affronto Il mio rapporto di coppia Con Jimmy Sono ormai quattro anni Che io e lui Stiamo insieme E quasi quattro anni Che viviamo Una relazione a distanza Ovviamente ci sono delle basi Ci sono dei presupposti Ci sono delle idee Io Non penso che sarai in grado Di continuare un rapporto Così per sempre Anzi Assolutamente no Perché più vai avanti Più ti attacchi Emotivamente a una persona Più è difficile separarsi Più è difficile vivere lontano Più vuoi vivere con questa persona E questo è quello che provo con Jimmy Quindi Ci sono anche dei presupposti Per quando finiremo in università Quando troveremo un lavoro Se tutto va bene Anche di andare a vivere insieme Quindi Il fatto che ci sia questa idea Questo presupposto Mi dà un po' anche la carica La voglia di continuare Questa relazione a distanza È difficile Perché Ci può essere tantissimo amore Ci può essere tutto Però Se Non si vede Insieme Un futuro Insieme Dopo un po' Dici Ma perché lo sta facendo Cosa mi spinge a farlo Quindi Io e Jimmy abbiamo messo Abbastanza le cose in chiaro Se tutto va bene Quello sarà il risultato Poi può succedere qualunque cosa Yeah Però Questa è una cosa che mi spinge E mi motiva A Continuare questa relazione Nonostante comunque Io abbia dei sentimenti Che me la farebbero continuare Lo stesso Non voglio che adesso Venga travisato Il mio sentimento Quindi Boh Spero di aver risposto In modo completo A questa domanda Spero che il video Vi sia piaciuto Sinceramente Quando sono con Jimmy Non ho molta voglia Di filmare Però non lo so Ero lì Mi andava Perché comunque Sono video Per voi Per il canale Ma sono anche video Che poi mi rimangono E quindi Le cavolate Le risate Così Sono belle Che vengono filmate Che mi rimangono Come ricordo Spero che vi sia piaciuto L'edit Di Firenze L'ho cercato di rendere Un po' più Incalzante Perché Insomma È un po' pesante Soprattutto se poi L'avete già visto E basta Io concludo qui Questo video Vi saluto Spero che vi sia piaciuto Spero che vi sia stato utile Ciao 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 Ciao